Ehi raga, benvenuti al mio video, sono Rando di 187 motori, sono qua al mare, in spiaggia, guardate che bel posto, e siamo in un bel posto in spiaggia, e in questo momento siamo in spiaggia a vedere il mare, se vedete che è il posto, è veramente bello, ci vediamo in metà strada, ciao, eccomi qua, sono ritornato nel video, e stiamo facendo una bella passeggiata nella spiaggia, in un magnifico posto, veramente che è in Toscana, in Toscana siamo proprio in un posto veramente fantastico, vedete che bel posto, cioè l'acqua è favolosa, ve la faccio vedere adesso, guardate che bel posto, cioè è favoloso, è bellissimo, è bellissimo, cioè è un posto veramente divino, fantastico, è un posto che non conosce nessuno, cioè ce lo conoscono tanta gente, però non così proprio fatto bene, guardate che bel posto, dai ci vediamo tra metà strada, che ho il partito un po' scarica, ci vediamo a metà strada, ciao, allora eccomi qua, siamo in un posto bellissimo, veramente bello, e stiamo andando nel posto verso il parco, in questo momento sto lasciando la spiaggia, sto andando lì al parco, ci vediamo a metà strada con la GoPro, ci vediamo tra un po', ciao, eccomi, sono ritornato sul vero prima, siamo su una strada che stiamo andando verso il parco, e dopo faccio la chiusura quando sono davanti alla casa mia, cioè non è mia, casa di affitto che ho preso io, e ci vediamo a breve video, ciao, ciao ciao ciao, eccoci, siamo ritornati in questo momento, la metà strada, stiamo andando in quella casa la in fondo, e ci vediamo lì quando faccio la chiusura, di pochi secondi ovviamente, non faccio troppo lunga la chiusura, ci vediamo tra poco, ciao, ecco, siamo qua, siamo tornati nelle posti dove siamo partiti, vi mando un saluto, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina, così almeno non perdete i miei contenuti, i miei video, i miei live, soprattutto su Instagram, che sia su Facebook, che sia su YouTube, sono random 1987 motori, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina, ci vediamo molto presto, domani torno a casa, a Bergamo, nel mio, diciamo, nel mio magnifico studio, da YouTube, perché in questo momento sono in una casa di affitto, veramente bello, ci vediamo nella prossima video, e, e, adios! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti